non è lei questa è la volpe che stava mangiando le galline di le galline di questa è la volpe che mangiava le galline di gp l'amico di is e di petro perché perché le volpi seguono gli insegnamenti umani per riprendere galline viki come ho fatto riprendere le galline di gp quello della del tramutanda non farò mai più viki questo è un animale della specie canis vulpes è parente al cane al lupo e coiote perché vi che una volpe e per a parte qui quindi si dice studo come una volpe e anche io voglio dare qualcosa da mangiare questo animale del bosco